Vogliamo la sospensione di questo progetto, la discussione di un nuovo progetto che sia rispettoso sia dell'ambiente ma anche della qualità del Viale e delle esigenze dei cittadini. Questa volta hanno dimostrato la loro contrarietà all'abbattimento degli alberi di Viale Cairoli in pieno corso Matteotti e in un giorno di mercato. È stata la terza manifestazione che gli ambientalisti animati da Lupus in Fabola e da altre associazioni hanno organizzato per indurre l'amministrazione comunale a rivedere il progetto che insieme alle ferrovie dello Stato intende rendere più accessibile il sottopasso ferroviario. Tra la curiosità della gente e il controllo attento di due vigili urbani è stato attivato un flash mob molto significativo. Alcuni hanno impersonato i platani che dovrebbero essere abbattuti mentre un altro personaggio ne ha mimato il taglio, reso ancora più realistico dal rumore di una motosega diffuso da un registratore. Mano a mano tutti sono caduti a terra simboleggiando una strage. Sarebbero tra i 14 e i 16 i platani che dovrebbero essere eliminati uno spoglio sensibile per Viale Cairoli che viene considerato uno dei più belli viali alberati di Fano. Allo stesso tempo gli ambientalisti hanno depositato una raccolta di firme in comune tesa a sostenere le loro richieste. Oggi abbiamo fatto un flash mob per attirare l'attenzione dei cittadini, siamo qui per il corso, adesso ci sposteremo anche più verso la piazza. Ovviamente il tema è sempre quello, noi vogliamo discutere dei progetti che il Comune di Fano mette in campo quando convongono i cittadini e parti del territorio. In questo caso Viale Cairoli è un viale storico, ha 150 anni e non si può calare un progetto così dall'alto senza che sia discusso con nessuno. È un progetto fra l'altro abbastanza brutto che sconvolge completamente un viale. È inaccettabile che il Comune si muove in questo modo senza consultare, ripeto, nessuno su cose così rilevanti per la città. Consegnate anche una raccolta di firme? Come è andata l'iniziativa? La raccolta di firme è spontanea, abbiamo lasciato dei fogli presso due esercizi commerciali, ad oggi siamo a 360-370 firme, le consegneremo questa mattina al sindaco, poi se il sindaco non ci riceve o non c'è comunque le protocolleremo. La raccolta di firme è continua e insistiamo con la richiesta di un incontro con il sindaco, l'assessore competente, perché vogliamo la sospensione di questo progetto, la discussione di un nuovo progetto, perché quel viale non ha solo un problema di sottopasso, ma anche un viale abbastanza degradato che avrebbe bisogno di tanti lavori di messa a posto. Quindi fino adesso, nonostante le manifestazioni, non avete avuto alcun incontro con i rappresentanti del Comune? Nessuno, non ce n'è più sordo di quello che non vuole sentire.